Io penso semplicemente una cosa, che non ci sto a far passare questo decreto per un decreto che vuole licenziare le persone. Io non voglio licenziare a nessuno, non voglio mandare a casa nessuno, voglio solo ridurre il precariato per i nostri giovani. Per quanto riguarda il Presidente Boeri, come ben sapete la legge non ci consente di rimuoverlo. Io personalmente avrò modo poi di collaborare con tutte le istituzioni di questo Paese. Quando ci sarà il rinnovo a fine anno, ovviamente si valuteranno tutte quelle che saranno le decisioni da prendere sull'Inps, ma non solo. Deve essere chiara una cosa, questo decreto dignità è un decreto avversato da tanti mondi che hanno campato sulle spalle dei precedenti governi e quindi degli italiani. Adesso è il momento di dire basta. Se si voleva trovare un numerino nella relazione tecnica per scatenare il dibattito e impaurire gli italiani, non ci sono riusciti. Adesso io mi permetto soltanto di dire che bisogna andare avanti, bisogna andare avanti con l'obiettivo di sconfiggere una serie di piaghe sociali come le delocalizzazioni, come il gioco d'azzardo, che stanno distruggendo le nostre famiglie. E anche le istituzioni, le forze politiche, gli italiani devono scegliere se stare dalla parte di queste lobby de gotte che campavano sulle loro spalle o dalla parte dei diritti e della qualità della vita degli italiani. Ma chi ha messo il numerino, Ministro? La manina qual è? Troviamo la manina e poi ve la dico. Avete trovato un accordo sul Cdp? Sì, ma procede tutto bene, stiamo cercando i migliori, queste sono cose che vi dirà il Ministro Tria. Il Ministro Tria deve concordare con gli aziende del governo a nominare il Direttore Generale del Tesoro? Noi stiamo facendo un ragionamento a 360 gradi, nulla è dovuto, per carità, il Ministro Tria ha tutta la sua autonomia. Quando però ragioniamo su questi incarichi stiamo cercando di mettere insieme le migliori competenze di questo Paese. Se qualcun altro ha da dare consigli a me per i ruoli che dovrò individuare, ben venga. Senta, nel decreto in Parlamento ci potrà essere qualche ritocco, questa stretta, ad esempio sul costo del lavoro? L'ha detto che ci potrebbe essere nelle prossime settimane. Potrebbe ci fare anche qualche incentivo per le stabilizzazioni? Ma noi vogliamo intervenire sia sugli incentivi ai contratti a tempo indeterminato e sia a fine anno per il costo del lavoro. Quindi c'è tutta l'intenzione di aiutare le imprese a stabilizzare i propri dipendenti e a pagare di meno i contratti. Se si vuole migliorare il decreto, il Parlamento ha tutto il diritto di farlo. Io vi parlo come capo politico del Movimento. Il Movimento non arretra sul giro di vite e sul precariato, non arretra su quelli che sono i capisaldi di questo decreto. Se lo si vuole migliorare, noi ci siamo, assolutamente. Se vogliamo eliminare qualche altra burocrazia, qualche altro intervento burocratico, facciamolo. Noi abbiamo eliminato spesometro, redditometro e split payment. Eliminiamo qualche altra cosa, facciamolo insieme.